Sono usciti dalla televisione Loro sono gli attori Perché non approfittate dell'occasione Per dimostrarci se questo vi rende davvero migliori Non sapete cosa fare È una nuova sensazione Nella vita reale bisogna sapersela cavare Perché nessuno qui ti scrive il copione Ehi tu che cosa fai? Ma non è che cerchi guai Dai cammina alza i tacchi Ciao 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 bye bye Ehi tu che cosa fai? Ma non è che cerchi guai Dai cammina alza i tacchi Ciao 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 bye bye Canto e ballo da quando ero bambina Non ho tempo per me stessa E nemmeno per gli amici Studio ogni sera e vado a scuola ogni mattina Credete che in fondo questo non comporti grossi sacrifici? Sì immagino Scusi prof Oggi non sono preparata Ieri avevo le prove Stai tranquilla cara Ho visto la puntata Ti meriti un bel nove Siamo usciti e non c'è niente di uguale È cambiato tutto Tranne questa scuola Non mi giudicate troppo superficiale Mi sa che stavolta ci hanno ammollato una vera sola Riflettete prima di giudicare Io non ho più diritto a una vita privata Ho paura perfino di potermi innamorare Ogni storia d'amore che comincia già ben tutta e pubblicata Che c'è tesoro? Sei troppo famosa e bella? Iscriviti al concorso per Miss Garbatella Fai tardi a scuola? Chiama il tuo autista? Se faccio tardi io Mio padre mi pista Sembra andare tutto male Forse siete un po' delusi È così che funziona la vita nel mondo reale Non c'è nessun vantaggio ad essere famosi Ehi tu che cosa fai? Ma non è che cerchi guai Dai cammina alza i tacchi Ciao 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 Bye bye Ehi tu che cosa fai? Ma non è che cerchi guai Dai cammina alza i tacchi Ciao 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 Bye bye La vita è fatta come un panettone Non farti ingannare dall'apparenza Se giudichi soltanto la confezione Non riesci ad apprezzare la vera essenza Facciamo capire a questa gente chi siamo Dobbiamo difendere le nostre ragioni E per dimostrare quanto valiamo Usiamo il metodo Cesaroni Ehi tu che cosa fai? Ma non è che cerchi guai Dai cammina alza i tacchi Ciao 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 Bye bye Ehi tu che cosa fai? Ma non è che cerchi guai Dai cammina alza i tacchi Ciao 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 Bye bye Ciao ciao